La pandemia di Covid-19 ha evidenziato la vulnerabilità degli anziani alle malattie respiratorie, infettive e alle loro complicanze. È stato dimostrato chiaramente che gli individui con comorbidità sono più vulnerabili alle infezioni e sono più inclini a sviluppare complicanze gravi, quindi a rischio di ospedalizzazione, di perdita di autosufficienza e di morte. Le comorbidità più comuni presenti nei pazienti ospedalizzati per Covid-19 erano malattie cardiovascolari, respiratorie, diabete, obesità. Ma noi da tempo sappiamo che altre patologie infettive, quali l'influenza, la polmonite da pneumococco, la pertosse, l'herpes zolz, colpiscono per lo più persone fragili e portano gli anziani ad avere un peggioramento delle patologie copresenti. Tutte queste patologie sono prevenibili con le vaccinazioni e ci possono garantire quindi non solo la possibilità di evitare queste malattie infettive, ma anche di mantenere una qualità di vita migliore. Quindi vacciniamoci, è un nostro diritto, serve a preservare la salute, la qualità di vita nostra e di chi ci sta vicino.